Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono MadoshkaGamer e oggi continueremo Crash Bandicoot 1 Iniziamo subito il quinto livello ragazzi Ecco già questo qua non mi piace Spendiamo la maschera, perfetto Perfettissimo, fino a qua ci siamo ragazzi Marona ce l'ho fatta per un pelo, cazzo No, qua è un pochettino complicato Ecco il primo checkpoint ragazzi Ok Ok, quella pianta se non sbaglio si chiudeva Marona ce la faccio, mamma ce l'ho fatta per un pelo, ce l'ho fatta Ragazzi, queste foglie ci portano in altre foglie Ok Maschera, acqua, acqua Maschera, acqua, acqua e abbiamo preso una vita ragazzi E siamo morti come deficienti, mannaggia Facciamo un piccolo saltino vai Chiuditi, chiuditi bravissima Che io ti salto addosso E continuo il mio livello No, è già finito il livello, cazzo È durato neanche due secondi, incredibile Ma va bene, meglio così ragazzi Papu papu Chi è papu papu? Ah, forse è il boss questo qua se non sbaglio ragazzi Sì Sì sì, è il boss Ci stiamo chiedendo dove cazzo siamo Allora io non mi ricordo proprio come si Ah, ho capito come si fa a sconfiggere ragazzi Perfetto No, no, non mi dire che è così semplice distruggerlo Cioè ragazzi l'abbiamo sconfitto a tempo record E io mi ricordo che la prima volta che ci ho giocato Boh, mi piallava non so quante volte Cinque, sei ogni volta Invece ora l'ho piallato con tre semplici saltini Incredibile Andiamo su Rolling Stones Minchia il gruppo musicale mi sa Ma va bene, ok Stiamo parlando del 96 ragazzi Non so se avete problema Distruggiamo tutte queste casse Perché dopo ci cadono in testa Se non le distruggiamo tutte Ok, primo Secondo Ok Fino a qua ci siamo Perfetto No, ma no Ho sbagliato Una Ci cascherà addosso una casa a fine livello ragazzi Quante vite siamo? Otto, nove Checkpoint Andiamo alla nostra Acquatu Perfetto Ora siamo indistruttibili ragazzi Non so che cosa abbiamo preso ragazzi Ma credo che sia una cosa abbastanza importante Abbiamo preso una specie di vita No vita E' lo scienziato che aiuta A Neo Cortex Perfetto Fino a qua ci siamo Credevo fosse molto più difficile Il nostro Crash Bandicoot 1 ragazzi Ma quanto vedo è Un po' No, ho sbagliato Mamma mia, ce l'ho fatta per un pilo ragazzi Ok Facciamo il nostro livello bonus ragazzi Bonus round Vediamo che cosa Possiamo prendere di utile Ok Ok qua dobbiamo cercare di stare attenti ragazzi Dobbiamo saltare rotellando E siamo morti lo stesso in ogni caso Che cazzo di cosa Grudele Mannaggia Ok Ritorniamo al nostro Livello Perfetto No Maranno E mia Qua Questo è un peccettino difficile Forse il più difficile che io abbia mai fatto fino adesso Ok L'abbiamo passato Perfetto Perfetto ragazzi Ma abbiamo preso Le specie di livelli I cosi Tipo le tablette Quelle là Con la gnocca ragazzi Solo che ci sta questo Questo individuo Che non riesco a spiegarmi chi è Ma comunque sia Facciamo l'ultimo episodio Hogwield Vediamo che cosa C'è Bellissimo ragazzi Guardate Cresce Quanto è figo Mamma mia Quanto è bello Sto livello Ragazzi Mi piace da morire Ve lo giuro È bellissimo Sto livello Il porco occhio Il congelione Prendi sti fasse Prendi Almeno una Cazzo Non parte del suo G Qua Cioè Ma non mi ha preso Quel Quel coglione Va bene Dai Forza Crash Sopra il suo porto Ok Uomo deviato Perfetto A sinistra Ok Maronna Che salto Ragazzi Maronna Maronna Che ce la facciamo Checkpoint Un altro checkpoint Fantastico Ragazzi Vai Mantieni Sulla sinistra Occhio Occhio Alla curva sinistra Maronna Ce la stavo facendo A destra Devi Alla destra Perfetto Qua c'è un porco Che si stava Arrostendo Poverino Ok Rimaniamo Bassi A destra Destra Santo Dio Ti ho detto A destra Devi A destra Perfetto Salta Bravissimo Bravo Così si fa Bello 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 Continua Occhio curva a destra Maronna Per un pelo Non so neanche io Come ho fatto Ragazzi Non so neanche io Come ho fatto Deviarlo A destra E ce l'ho fatta Ragazzi Ce l'ho fatta Siamo adesso Nella mappa Giunti Ragazzi Credo che Questo qua Sia L'ultimo livello Per oggi Che dire Ragazzi Grazie Se avete Visualizzato Il video Commentate Condividete Il video A bestia Proprio A più non posso Se non siete iscritti Al mio canale Iscrivetevi Mettete un mi piace Sulla pagina Di facebook Che trovate Nella descrizione E noi ci rivedremo Nel prossimo video Bella a tutti Ragazzi Ciao